Musica Bentrovati alla terza edizione del TG6 in Abruzzo quest'anno, oltre alla tradizionale mimosa, il simbolo della festa della donna è la presentosa 3D, un gioiello in plastica realizzato dall'artista Teramano Isidoro Bagnozzi. L'oggetto ieri è stato donato alle detenute del carcere femminile di Chieti dalla senatrice Federica Chiavaroli, un'occasione per riflettere sul significato della festa della donna. Ascoltiamo oggi a riguardo la presidente della commissione pari opportunità della regione Abruzzo, Gemma Andreini. L'8 marzo è una giornata importante per tanti aspetti, ma soprattutto perché tutti quanti finalmente prendono coscienza di quali sono le problematiche che affliggono il mondo femminile, e veramente sono tante. Questa che diceva lei della presentosa è un'idea che nasce da Teramo ed è un'ottima idea perché è un gioiello simbolo dell'amore dell'uomo verso la donna e quindi vogliamo proprio che questo simbolo diventi un simbolo universale e che combatta la violenza, la violenza contro le donne che sempre di più purtroppo è nelle cronache giornaliere. Quindi questo è un nuovo messaggio che è stato mandato attraverso questa simbologia importante. Come non strumentalizzare questa giornata? Questo è un altro aspetto molto interessante. Questa giornata viene chiamata la festa della donna, ma se in realtà andiamo a vedere perché è stata fissata questa giornata, ci troviamo davanti a delle donne che sono state vittime dei loro datori di lavoro perché sono state chiuse in una fabbrica e sono morte bruciate. Quindi la festa è in realtà in un certo senso una forzatura. Si ricorda la donna per le discriminazioni che lei subisce, quindi chiamarla festa forse è un non senso. Io mi sto attivando per proporre che sia un'altra la vera festa della donna perché anche adesso con le nuove normative che prevedono anche maggiore diffusione delle normative che riguarderanno la possibilità per le donne di essere candidate e quindi di riuscire a ricoprire posti istituzionali importanti, credo che forse la festa della donna dovrebbe essere quella nella quale la donna nel 1946 ha avuto il diritto di voto e questa forse potrebbe essere un messaggio positivo rispetto a questo che sicuramente raccoglie in sé tantissimi messaggi che non vanno assolutamente cancellati, benissimo anche l'8 marzo, ma vediamo di metterla in positivo. 8 marzo quindi come momento di riflessione sul significato di una giornata dedicata alle donne e alle loro battaglie per i diritti. A Pescara i giovani studenti delle scuole hanno presentato i lavori realizzati su questo tema. Francesca Romana Testi. L'8 marzo viene ricordato al comune di Pescara, in questo caso ci sono delle scolaresche, viene raccontato quello che è un progetto e soprattutto si vogliono sottolineare i valori che si legano dietro a questa ricorrenza. Sì, oggi un 8 marzo particolare qui in comune, un 8 marzo in compagnia delle scuole, di una serie di istituti scolastici che hanno partecipato ad un concorso indetto dalla Commissione Pari Opportunità, aventi ad oggetto la parità, o meglio la disparità di genere con dei prodotti artistici che qui presentiamo. Un'occasione anche per aprire le porte della sala comunale alla società, alle scuole e a fare una riflessione su una giornata che c'è ogni anno. Naturalmente ci sono anche gli altri 364 giorni dell'anno ma oggi si riflette sulla condizione femminile che certamente ha fatto passi in avanti ma che ulteriori ne dovrà compiere. Lo facciamo in compagnia delle nuove generazioni, nella sala consigliare, insomma una mattinata spero fruttuosa anche per i nostri piccoli ospiti. Ed ora la cronaca, un 73enne di Colle Corvino, Gaetano Palmucci, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in contrada Remartello di Loreto Aprutino. L'uomo, la guida di un'apecar, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada regionale 151. Inutile l'intervento del 118, da Pescara si era alzato in volo anche l'elicottero ma è subito rientrato perché non c'era per l'uomo più nulla da fare. Ora la cronaca giudiziaria, parliamo dell'inchiesta Ato, queste le richieste di condanna del pubblico ministero, 6 anni per l'ex presidente del lato Giorgio D'Ambrosio, 5 anni per il professor Luigi Panzone, 4 anni e 3 mesi per il dirigente Ato Nino Pagano, un anno e 6 mesi ciascuno per l'ex sindaco di Montesilvano, Pasquale Cordoma, l'ex sindaco di Francavilla, Roberto Angelucci e Gabriele Pasqualone, ex componente CDA del lato. Un anno per il dirigente Ato Alessandro Antonacci. Le richieste di condanna sono state avanzate oggi dal PM del Tribunale, come detto di Pescara Barbara Del Bono, nel corso della sua requisitoria nell'ambito del processo sul cosiddetto partito dell'acqua che si sarebbe creato in Abruzzo nell'ambito del lato numero 4 pescarese. I 11 imputati sono accusati a vario titolo di peculato, corruzione, abuso d'ufficio, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, distruzione ai documenti, truffa ai danni dello Stato e inviolazione dell'articolo 97 della Costituzione. Le richieste di condanna riguardano solo alcuni capi di imputazione perché per altri reati il PM ha chiesto il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione o l'assoluzione perché il fatto non sussiste. L'Italia dei Valori ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa. Si chiede la possibilità di potenziare la possibilità appunto di autodifendersi. Ascoltiamo. Il capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale Lucrezio Paolini ed il segretario regionale del partito Lelio De Santis hanno presentato all'emiciclo questa mattina la proposta di legge popolare sulla legittima difesa di iniziativa dell'Italia dei Valori. Il testo del provvedimento è stato depositato in Cassazione ed ha l'obiettivo di punire più severamente la violazione del domicilio attraverso il raddoppio delle pene e potenziando le possibilità di legittima difesa. La delinquenza va punita e va punita severamente. L'Italia dei Valori con un progetto di legge di iniziativa popolare già depositato alla Corte di Cassazione il 17 febbraio ci deve essere un cambio di tendenza. Noi questo vogliamo perché sia garantito il diritto di tutti i cittadini a vivere serenamente all'interno delle proprie mura domestiche. Chi sbaglia, chi delingue debba pagare seriamente e debba rimanere in carcere. Questo lo vogliamo fare aumentando le pene anche per evitare una specie di far west in cui ognuno cerca di fare giustizia da sé. Questo non è corretto, non è serio. Però nella stessa maniera bisogna rafforzare il presidio a tutela dei cittadini e del territorio quindi non solo con un esprimento delle pene ma anche rafforzando l'attività di vigilanza e di controllo con più poliziotti, più carabiniere, più vigili urbani a tutela del cittadino e a presidio del territorio. Centinaia di piccoli artigiani rischiano il crack per lo più subappaltatori impegnati nella ricostruzione post-terremoto di L'Aquila. Filippo Tronca Ditte non pagate o pagate con ritardi insostenibili, lavori ridotti all'umicino, fondi bloccati perché all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere il titolare Paolo Esposito non ha ancora il potere di firma. Tanti e drammatici problemi che attanagliano le piccole ditte subappaltatrici, quasi tutti aquilane impegnate nella ricostruzione post-sisma, che ieri hanno protestato in Consiglio Comunale all'Aquila chiedendo una svolta ed anche immediate modifiche al decreto antiterritoriale entrato in vigore ad agosto 2015. Massima solidarietà esprime oggi il sindaco di Barisciano e coordinatore dei sindaci del cratere sismico Francesco Di Paolo. La legge sulla ricostruzione concorda bisogno di modifiche e subappaltatori vanno tutelati. Di Paolo poi torna ad augurarsi che finalmente la Corte dei Conti metta il suo timbro sul decreto che prevede il rinnovo del contratto di Esposito, riconfermato all'inizio gennaio. Senza quella vidimazione Esposito non ha il potere di firma e di conseguenza non è possibile sbloccare ad oggi 9 milioni di euro per pagare le ditte impegnate nei cantieri e dare il definitivo via libera a progetti di ricostruzione dal valore di 20 milioni di euro. Guardi, sono pienamente d'accordo che qualche regola della ricostruzione sicuramente va cambiata perché questa regola che prescrive che il 30% possa riferirsi soltanto alla categoria prevalente può creare dei grossi problemi alle ditte artigiane della nostra zona, oltre al fatto che è previsto che anche per lavori sotto ai 150 milioni di euro è necessaria la sua A. Poi c'è la questione ad esempio molto grave del fatto che queste ditte non vengono pagate perché poi la ditta appaltatrice porta le fatture degli stati di avanzamento lavori al comune, all'ente che eroga il finanziamento con un'autocertificazione e poi non ha pagato i subappaltatori. Ecco, questo deve cambiare. Beh, l'autocertificazione comunque se è falsa è un reato penale che andrà perseguito secondo le leggi dello Stato. Com'è la situazione della ricostruzione nei cantieri dei comuni? Guardi, è noto che abbiamo questa difficoltà per la nomina del dottor Paolo Esposito che speriamo che veramente nei prossimi giorni possa essere risolta. Comunque come sindaci ci stiamo organizzando perché forse è il momento di fare uno documento forte per portare a termine l'idere amministrativo di questo documento. A Pescara gli ex lavoratori interinari di Attiva proseguono la loro lotta per riottenere il posto di lavoro. attendono ancora risposta all'interpellanza presentata al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Ascoltiamo. Va avanti il presidio dei lavoratori interinari di Attiva rimasti senza occupazione. Va avanti la richiesta di attenzione da parte delle istituzioni e del rispetto che meritano 69 padri di famiglia che hanno atteso per anni che quel contratto a tempo determinato diventasse finalmente una certezza indeterminata. Noi per autofinanziarci stamattina abbiamo creato dei gruppi e ci siamo messi a vendere le mimose senza chiedere niente di che, abbiamo chiesto ad offerta, abbiamo riscontrato una buona partecipazione del cittadino, dei cittadini e niente, questo è solo perché questa baracca purtroppo c'è i suoi costi e noi siamo rimasti tutti, c'è chi è rimasto senza disoccupazione, chi non c'ha più lo stipendio, chi non c'ha più niente. Qual è il punto della situazione? Voi avevate fatto diverse richieste, voi avevate chiesto la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. È arrivato un no dalla Corte dei Conti. Adesso come si prosegue? Scherzare con 67 pari di famiglia che non sanno più dove sbattere la testa non è una minaccia, parliamoci chiaro, questa non è una minaccia, non è un avvertimento, è soltanto un dato di fatto. Scherzare con 67 pari di famiglia che non sanno più dove sbattere la testa comincia ad essere un pochino pericoloso perché loro giocano ancora sul fatto del tirocinio, quindi non vorremmo che questo fosse un gioco per coprire tutta l'estate e poi alla fine di questo tirocinio tutti a casa e tutti amici, tutti felici e contenti. Questo non esiste. Il 16 marzo ci sarà un incontro all'Aurum proprio per parlare di questa situazione? Sì, c'è una scolaresca di Montesilvano, l'Istituto Tecnico Alessandrini che per un progetto di lavoro con il professor Baldassarre hanno voluto convocare questa assemblea, questa riunione che si terrà il 16 all'Aurum, saranno presenti loro, ci sarà l'assessore di Iacomo e ci saremo noi, una rappresentanza di noi e si parlerà proprio di questa questione di attiva e questo è un modo per ringraziare anche loro perché si sono interessati alla nostra vicenda. La classe politica responsabile negli ultimi vent'anni dello sfacelo della sanità pubblica è entrata in gambatesa sulla nomina del direttore generale Rinaldo Tordera, ha imposto senza averne titolo un manager bravo ma senza competenze in materia sanitaria, fregandosene dell'elenco degli doni e attingendo addirittura dall'elenco della Lombardia, arrivando anche ad offendere i medici aquilani bollandoli come una lobby. Va giù duro, molto duro Alessandro Grimaldi, segretario del sindacato dei medici a Nao dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nel corso di una conferenza stampa convocata dai sindacati Cisle e Will con l'intento di fare un'operazione verità non solo sulla nomina di Tordera direttore generale dell'Asla Vezzano sul Monal Aquila ma anche sul piano di riordino della sanità imposto dal decreto Lorenzin che in Abruzzo già solleva levate di scudi per i tanti tagli e accorpamenti previsti. E proprio sul piano di riordino arriva la seconda bordata di Grimaldi. I parlamentari abruzzese affermato conoscevano da più di un anno gli effetti della riforma sulla sanità abruzzese. Non possono ora cadere dalle nuvole e urlare allo scandalo. La battaglia la dovevano fare a tempo debito in Parlamento. Il riferimento è anche la senatrice Stefania Pezzopane che ha tenuto poco giorni fa una conferenza stampa a difesa dei reparti che rischiano di chiudere del San Salvatore. Tira infine alle somme Gianfranco Giorgi responsabile sanità della CISD. La riforma Lorenzina ha spiegato non può essere applicata in modo indolore ad una regione come l'Abruzzo che ha solo 1,3 milioni di abitanti distribuiti in un ampio territorio perché inevitabilmente si sguarniscono le aree interne. E infine snocciola l'elenco delle priorità da affrontare al neo manager Tordera. Noi chiederemo molto insomma perché c'è molto da fare. Per esempio la pianta organica deve essere rivista, il completamento dell'ospedale che ancora non bisogna ricostruire il delta medico, bisogna fare in modo che scompaiono i container dall'interno dell'ospedale, da Collemaggio. Quindi ci sono tante cose da fare e bisogna fare in modo che non ci sia precarietà all'interno dell'Alz. E sulla sanità Confindustria Pescara Chieti crea la sezione sanità, una iniziativa volta ad avere un confronto continuo con le istituzioni per tutelare i servizi ai cittadini. Vediamo. Efficientare il sistema sanità ma senza correre il rischio di perdere servizi per i cittadini. Una sorta di sorvegliante che si pone in maniera collaborativa nei confronti delle istituzioni. Così Confindustria Pescara Chieti presenta la neonata sezione sanità. Oggi presentiamo un manifesto composto da diverse priorità. Il fattore comune è sicuramente quello di chiedere alla Regione, alle varie istituzioni, a tutti gli interlocutori istituzionali, una maggiore partecipazione in quelle che sono le scelte. In questo noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, l'esperienza di tutta la sezione. possiamo contare in un know-how ampio perché racchiudiamo varie anime al nostro interno che vanno dalle case di cura private all'RSA, ai fornitori di beni e servizi. Quindi ci poniamo in maniera collaborativa per essere al fianco delle istituzioni, nelle fasi decisionali e per offrire questa nostra competenza. Se doveste individuare quelle che sono le lacune in questo momento, quali potrebbero essere? Diciamo che una criticità che riscontriamo spesso è data dai tagli. Vorremmo che si passasse da un concetto ormai obsoleto per noi di taglio lineare a una razionalizzazione delle spese, ovvero sicuramente risparmiare laddove ci sono degli sprechi, ma anche saper valorizzare quelle che sono le eccellenze. Per far questo però bisogna passare attraverso un affrontare diversi problemi, quindi andare un po' più a fondo nelle situazioni e in quest'ottica cerchiamo di essere al fianco delle istituzioni. Screening gratuiti alla Mammella a cura della ASL di Teramo. Oggi visite nel camper in piazza Pineto, ribadita l'importanza della prevenzione. Paolo Renzetti. Si chiama Screening e salva la vita, questo è lo slogan dell'ASL di Teramo per queste visite gratuite che si svolgono proprio in provincia. Oggi siamo a Pineto con il dottor Capone, responsabile dello screening della Mammella dell'ospedale di Teramo, dell'ASL di Teramo. Una campagna importante questa? Sì, è una campagna importantissima nell'ambito del programma di prevenzione della nostra ASL. La prevenzione del cancro del seno è diventata un LEA, un livello essenziale di assistenza e quindi noi come azienda siamo protesi a che questa cultura della prevenzione si diffonda in tutta la provincia. La prevenzione è fondamentale per alcune malattie, soprattutto per il tumore al seno. dobbiamo semplicemente ricordare che è il tumore che maggiormente colpisce la popolazione femminile e partecipare a un programma di prevenzione non solo facilita i percorsi diagnostici e terapeutici ma riduce la mortalità che nel caso della mammella è superiore al 20-25% di riduzione di mortalità. Nell'ambito del nostro programma di comunicazione abbiamo attivato un numero verde che è l'800-21-0002 che è la nostra centrale di ascolto. Ogni giorno tutte le donne che sono in età di screening, cioè per la mammella da 50-69 anni, possono telefonare a questo numero e dare le proprie generalità se hanno il dubbio di non essere nei nostri elenchi. La signorina che vedete alle mie spalle fa proprio questo lavoro, risponde al nostro helpdesk, prende i dati delle signore, le trasferisce alla segreteria e quindi ove la signora non fosse inserita nei nostri elenchi verrà inserita negli elenchi e quindi verrà chiamata per fare la mammografia. Oggi lo facciamo qui, la signorina prende i nomi e le signore salgono su quel camper ed eseguono la mammografia che è il test per lo screening. Una clax action contro le bollette ACA per un servizio idrico non erogato in relazione all'inquinamento del fiume di Pescara. A promuovere l'azione sono le associazioni Pescara.0 e Terra Nostra. Il servizio. Pagare un servizio che non viene erogato, i cittadini chiedano la restituzione delle somme non dovute. Il caso è quello degli scarichi abusivi e dell'inquinamento del fiume e a proporre l'iniziativa sono due associazioni di Pescara. L'azione risarcitoria dei cittadini nei confronti degli enti ACA e Sasi che sostanzialmente hanno richiesto sulle bollette una quota per la depurazione che però non è stata mai effettuata. E quindi noi abbiamo riscontrato, abbiamo ritrovato una sentenza della Corte Costituzionale, la 335 del 2008 che permette di chiedere proprio il rimborso di questo servizio non erogato in quanto proprio è stato sancito che la quota di depurazione non è un tributo ma un servizio che però non è stato erogato. Noi adesso chiederemo all'ACA di fornirci tutte le utenze che sono collegate a questi scarichi che vengono ritenuti abusivi ma probabilmente i cittadini, gli utenti non sanno che non sono collegati al depuratore perché magari sono discariche, sono tubature vecchie come è stato riscontrato e di conseguenza provvederemo con la mappatura delle utenze ad intraprendere la class action con i nostri avvocati per quanto riguarda il risarcimento. Anche per il malfunzionamento dei depuratori, non soltanto per il mancato servizio. Cosa dovranno fare i cittadini per poter partecipare a questa class action? I cittadini potranno rivolgersi tranquillamente ai rappresentanti delle associazioni che avete appena ascoltato dai quali abbiamo preso spunto rispetto alla documentazione relativa alle sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale che si sono già pronunciate sul punto e probabilmente esistono gli estremi per una richiesta di risarcimento che coinvolgerà quei cittadini che dalla mappatura di cui parlava prima a Monaco risulteranno essere coinvolti nella vicenda. Prostituzione fuori controllo a Pescara. La denuncia arriva dal consigliere comunale della lista Teodoro, Massimiliano Pignoli che chiede l'intervento immediato del prefetto e del questore della città. Prostituzioni sotto la luce del sole, in orari pomeridiani sotto gli occhi di tutti. La denuncia arriva da Massimiliano Pignoli che chiede un intervento immediato alle istituzioni di Pescara. Perché abbiamo notato che da alcuni mesi la città è invasa dalle cosiddette lucciole e invasa anche il pomeriggio per cui ci troviamo a camminare noi cittadini pescaresi ad esempio in prossimità della stazione ferroviaria di Pescara sia su Piazza della Repubblica ma soprattutto anche su Via Enzo Ferrari e vedere queste prostitute che tranquillamente vendono il loro corpo. Questo non mi sembra una cosa giusta, ovviamente questa cosa avviene anche in Via della Pineta dove i residenti sono ormai da anni che lottano per eliminare questo problema ma in realtà non si fa nulla per eliminarlo. Per cui questa mattina abbiamo voluto rimettere al centro dell'attenzione questo problema della sicurezza anche che i cittadini ci chiedono di porre rimedio. Per cui scriveremo nei prossimi giorni al prefetto e al questore affinché si intensifichi i controlli per eliminare questo problema. Pescara certamente non può essere una città della prostituzione. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Il giudice sportivo di Serie B ha fermato per una giornata il difensore Zampano del Pescara. Un turno anche per Faraoni del Novara. I due salteranno la partita tra Pescara e Novara di sabato prossimo. Una giornata anche a Zito della Salernitana che non sarà in campo nel match dell'Arecchi di sabato contro la Virtus Lanciano. E doppia seduta oggi per il Pescara. Probabile rientro sabato prossimo per il terzino Crescensi. Ci sono possibilità anche per Valerio Verre. Sarà quasi certamente ancora assente Campagnaro che potrebbe recuperare per la trasferta di Crotone. Oggi intanto il tecnico Oddo ha parlato in conferenza stampa di questa crisi di risultati della squadra. Ascoltiamolo. Diciamo che è una crisi di testa. In questo momento di testa. Mentale. Mentale. C'è bisogno di uno psicologo o di uno psicologo? Sì, sono io. Anche di uno psicologo? Per forza. E chi deve essere? In questo momento bisogna tirar fuori tutte quelle sicurezze, quelle certezze che abbiamo avuto fino a qualche periodo fa. Ritornare a fare le cose con la stessa convinzione con cui le abbiamo fatte fino a un po' di tempo fa. e se torniamo a fare questo sicuramente torneremo a fare bene. In questo momento è possibile che anche queste pressioni che si sono create sulla squadra hanno inciso. L'essere in una determinata posizione di classifica, fare la corsa sulle prime due, sentirsi obbligati a vincere ogni domenica fa sì che a volte magari tu possa anche sbilanciarti un attimino. Ecco, queste sono cose su cui bisogna lavorare un attimino. Sicuramente vanno presi degli accorgimenti, ma sicuramente non va stravolto tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento, perché quello che abbiamo fatto fino a questo punto è stata sempre la nostra forza e deve per forza di cose tornare ad essere la nostra forza. Io credo che questa squadra è ancora sicuramente capace di fare quello di buono che ha fatto fino a questo momento e lo dimostra anche il fatto che durante larghi tratti delle partite, anche perse fino a questo momento, lo abbiamo anche fatto. Dede ha giocato con me, un mio amico mi ha chiamato, rinzona, mi ha detto posso venire a allenare con voi? Io ho detto sì, come no, puoi venire. Viene, sta qui, tranquillo. Poi magari se si fanno male quattro centrali contemporaneamente, l'abbiamo allenato intanto. Assolutamente. Poi io ho i centrali più forti che ci sono in circolazione, quindi non devono temere nulla. Campagnaro stiamo aspettando che ci dia l'ok, lui è il miglior medico di se stesso, quindi si sta allenando, non con grande intensità, qualche problemino, ma i soliti ce li ha, quindi vediamo un attimino. È un po' difficile oggi e martedì? Ma forse per sabato è difficile, ci auguriamo che per la prossima sia disponibile. Ripresa degli allenamenti oggi per la Virtus Lanciano nella singola seduta svoltasi al Campo Memmo era assente King per una distorsione alla caviglia, fermo in via precauzionale anche il portiere Cragno dopo lo scontro di gioco di sabato scorso contro il Brescia. Differenziato per Salviato, domani doppia seduta. Scendiamo in Lega Pro, rese note oggi le designazioni arbitrali, Sant'Arcangelo L'Aquila sarà diretta da Ranaldi, di Tivoli, Teramo Carrarese da Sprezzola di Mestre. Il giudice sportivo ha fermato per una giornata i difensori Maccarrone dell'Aquila e Caidi del Teramo. Il centrocampista Biancorosso Cruciani intanto garantisce massimo impegno della squadra pur sapendo che sarà difficile agganciare il treno play-off. Sentito da Andrea Costantini, lo ascoltiamo. Il nostro compito, il nostro dovere è quello di fare 9 partite, 10 partite al massimo, di cercare di vincerle tutte. Poi quello che succede vediamo. D'altro è quello che proviamo a fare tutte le domeniche, poi ti può riuscire meglio, ti può andare peggio, però l'impegno penso che questa squadra non mi sia mai mancato. Io sono arrivato, ripeto, sono arrivato da poco, però sentire a gente che critica anche ragazzi ragazzi che l'anno scorso erano idoli, potrebbero andare a fare stato e in questo momento criticarli mi sembra un po' sbagliato. Ci sta che dopo una brutta prestazione, ci sta che dopo brutte per partite che giustamente esponi i tuoi pensieri. Però da qui a criticare un allenatore, che comunque mi sembra che da quando allena ha sempre fatto bene, quindi è una squadra che lo scorso anno, ripeto, ha fatto quello che ha fatto. Io penso che da come sono partite le cose all'inizio anno, chiunque avrebbe messo la firma per arrivare come siamo adesso. La Carrarese, purtroppo mi è capitata anche a me in passato di trovarmi in una situazione del genere e posso garantire che in quelle difficoltà ci si unisce, cioè una squadra si unisce sicuramente e non è mai facile incontrare squadre che hanno una rabbia che va al di là del calcio, perché come in campo riporti tutto quello che sono i problemi della settimana, quindi sicuramente incontreremo una squadra con quella mentalità, però non c'è da nessuno per nessuno, che sia Carrarese, che sia Juventus, che sia... Ripeto, dobbiamo farla nostra, in qualsiasi maniera, sia che siamo belli che sia che siamo brutti, dobbiamo farla nostra. Lasciamo il calcio, inizia domani l'avventura dell'Abruzzese, Lorenzo Petrarca al Moto Mondiale M3, oggi il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale di Montorio Alvomano. Vediamo. Lorenzo Petrarca, alla vigilia della partenza per il Qatar, per il Moto Mondiale, oggi c'è questo importante avvenimento, questo riconoscimento del Comune di Montorio, che fa sicuramente piacere. Sì, è un grande onore per me essere premiato dal Comune di Montorio, soprattutto in una giornata così importante, prima della partenza, per la prima gara, quindi due grandi emozioni, tutti i due nello stesso giorno. Domani finalmente partiamo per il Qatar, dove svolgeremo gli ultimi tre giorni di test, la settimana dopo il primo weekend di gara. Grande emozione, tanta voglia di fare bene, di crescere pian piano, gara dopo gara. Gli obiettivi sono tanti, sarebbe già un grandissimo traguardo essere costantemente in zona punti in tutte le gare. Spero anche non manchino gare con migliori prestazioni, posizioni più avanti, nei gruppi di testa. Comunque si vedrà strada facendo. È l'unico terramano che riesce ad arrivare al Mondiale, è il secondo abruzzese, quindi ci sono tanti motivi di essere orgogliosi. Poi siamo contenti perché è la sua passione, la sua vita. Fa piacere che la presidenza comunale dia questo riconoscimento a Lorenzo, senza dimenticare che già in passato la presidenza comunale ha riconosciuto a Lorenzo un premio, perché in occasione di alcune sue vittorie, riportate in ambito nazionale e internazionale. Anche la nuova amministrazione si sente di dover premiare Lorenzo Petrarca per i risultati ottenuti, anche perché è un ragazzo che è stato scelto e chiamato dalla federazione a svolgere un campionato così importante che è un punto di lancio per Lorenzo, ma è anche un punto di lancio per il comune di Montorri al Vomano che vedrà portato comunque nelle tappe internazionali che lui andrà a svolgere. Quindi è un orgoglio per l'amministrazione, ma per la comunità montorriese tutta. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.